Massimo impegno della presidenza del Consiglio regionale sin dai primi mesi della legislatura per vincere una battaglia di civiltà per la quale i tempi sono maturi e non più rinviabili. E' quanto ha sottolineato stamattina Gianfranco Ganao nel corso dell'incontro con Lucia Tidu, Elena Seci e Carla Poddana, rappresentanti dell'associazione Meglio in Due che si sta mobilitando per introdurre nella legge elettorale del Consiglio regionale la doppia preferenza di genere. Esiste già da tempo all'interno della proposta di riforma statutaria una modifica della legge elettorale che garantisce la doppia preferenza di genere, ha detto Ganao. Proporò che venga estrapolata e portata subito all'attenzione della conferenza dei capi gruppo. Il Presidente dell'Assemblea Sarda ha anche chiarito che le date e i tempi per portare all'attenzione dell'Aula a nuove leggi purtroppo non le stabilisce soltanto il Presidente del Consiglio. Per me questa rappresenta una priorità, ha sottolineato il Presidente Ganao, tant'è che da subito ho richiesto agli uffici di lavorare su una proposta di riforma statutaria che contenesse la modifica della legge elettorale con la doppia preferenza di genere. Il Presidente dell'Assemblea ha anche ricordato che gli uffici di presidenza hanno fatto una scrematura delle diverse proposte di legge che saranno poste all'attenzione della prima commissione del Consiglio regionale ai primi di gennaio. L'associazione Meglio in Due ha chiesto di ridurre i tempi di presentazione in aula di discussione della legge che deve avvenire al massimo entro il mese di febbraio. Questo è stato sollecitato dal Sindice dei Consigli Comunali dei Territori che hanno approvato le mozioni a sostegno della doppia preferenza di genere.